Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 15 marzo 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Super lavoro per non pensare. Il sole in quarta casa è come un faro che illumina le pieghe più segrete dell'anima, soprattutto quelle che preferireste ignorare. Ecco perché oggi preferite dare una mano alla coppia luna-urano, che vi conduce su un terreno concreto e meno sdrucciolevole. Pungolati dal sestile di Marte, in azienda sgobbate come muli, fare impedisce di pensare, soprattutto ad argomenti spiacevoli. La sensazione di fondo rimane quella di insicurezza, il passato vi sembra trascorso in vano, senza lasciarvi esperienze sostanziali. Anche le relazioni familiari zoppicano un po', a confondervi tanti non detti e qualche bugia. Vero, i panni sporchi si lavano in famiglia, ma voi preferite la biancheria pulita, odorosa di lavanda. Per il passato, una separazione molto dolorosa che ha lasciato il segno e ha determinato una sofferenza importante. Per il futuro, potrebbe esserci una separazione dolorosa e di cui non ne avete tutte le responsabilità. Si agita lo spettro di uso di magia per separare una coppia. Separazione, divorzio, crisi con rottura di coppie. I single avranno un periodo di incomprensioni e difficoltà nell'approcciare alle persone verso cui hanno un interesse e trascorreranno momenti di solitudine. Se state leggendo questo oroscopo dall'ufficio o dal luogo di lavoro sappiate che ci sono buone possibilità che qualcuno vi scopra e vi rimproveri. Usate molta prudenza. Problemi con badanti e cameriere. Anche per chi sta ristrutturando casa problemi con operai e progettisti. Armatevi di calma e pazienza e rivedete con calma ogni cosa che vi è stata fatta. Chiarite subito una questione importanete con una persona a cui tenete, fate in modo che possa avere chiari i limiti che dovrebbe avere con voi. Ne va del vostro bene. Avete buone opportunità di rivedere e risentire persone che non vedete da tempo, cercate di non serbare rancori inutili e soprattutto guardate avanti e tirate dritto per la vostra strada. Non date niente per scontato, fate tutte le cose meglio che potete, cercate di non distrarvi e se il cuore vi dice di andare in una direzione consultatevi prima con la ragione. Buone nuove in arrivo, anche se tra la posta potrebbe serpeggiare qualche multa o cartella esattoriale. Ricordatevi di assolvere per tempo i pagamenti. Prendete oggi il meglio delle persone che vi circondano e fatene tesoro. Avrete buone idee, e in concreto, potreste anche avviare un progetto interessante che vi sta a cuore. Provate a non considerare come nemici coloro che credete tali e che magari sono dalla vostra parte, se riversate su di loro sentimenti negativi, prima o poi, si ritorceranno contro e potreste perdere appoggi importanti. La pace del cuore insierà a farsi sentire nel momento stesso che avrete perdonato di cuore e torti subiti. Una nuova energia attraverserà la vostra vita. Ma dovrete dedicare più tempo alla vita reale. Recuperare oggi i rapporti e le amicizie che si ritenevano perduti, ma che non sono mai andati via, sarà la vostra gioia più grande. Perché la scena odierna dei pianeti appare molto positiva per voi sagittario. La luna in toro, pur non in rapporto col vostro segno, vi apre a una giornata indubbiamente in linea con le vostre corde. Potete osare di più quest'oggi, un po' in tutti i campi, ma in maniera più netta in quello amichevole e sociale in generale. Buona giornata sul fronte del lavoro e della salute grazie alla coppia luna-Urano in sesta casa. Magari nervosetti lo sarete, anche per via di Marte in sestile che vi arma contro l'interlocutore, iniziate con un sorriso disarmato e in tono gentile, ma se gli altri vi rimbeccano in malo modo anche voi non siete fatti di ferro, prima o poi vi capita di reagire. Almeno trattenetevi di farlo col capo, specie se il vostro accordo non è idilliaco con chiunque ci sia già del malanimo. Amore ed Eros. Delusi da una situazione che ormai scivola nel passato e ancora poco o nulla motivate ad aprirne una nuova. Mente e cuore confusi, solo il lavoro vi dà un senso di realtà. Gli unici a capirvi e a consolarvi come si conviene, i vostri quattro zampe, accarezzarli produce endorfine che placano il tumulto interiore. Qualche tensione che si era percepita nei giorni scorsi, sparirà come per incanto adesso. Potrete godere infatti dei buoni influssi di Marte, che occupa il segno dell'acquario, mettendovi in condizioni di essere voi stessi, di esprimervi con la naturalezza, il calore umano che avete dentro. Questa ipotesi previsionale è più centrata e in evidenza se festeggiate il vostro compleanno in dicembre. Lavoro e denaro. È il punto fermo della giornata, fermo si fa per dire, impegnarvi per guadagnarevi da un senso di continuità e di progresso, il presente vi appare neboloso, ma sul futuro sapete di avere buone carte da giocare. Guadagni in vista da rinvestire subito, anche per una richiesta di prestito bancario attivatevi immediatamente. Occhio alle tubature, oggi potrebbero desiderare di mettersi in luce facendovi fare una chiamata urgente all'idraulico. Un attivissimo plutone acquario vi permette, se siete nati della prima decade, di concludere in 4 e 4-8 incombenze che vi erano sembrate noiosissime. Successi strepitosi nel business per i commercianti nati in novembre, grazie a mercurio benefico. C'è oggi un'ottima configurazione astrale, approfittatene per concludere impegni che vi eravate lasciati da parte in precedenza. Benessere. L'entusiasmo vi carica a mille, ricordate però che il cambio di stagione è insidioso, se bruciate più di quanto introducete andate in avaria. Bello svolgere una professione che piace e in cui ci si riflette, ma occhio allo stress, la stanchezza minaccia di farvi perdere punti. Per lei, contrariate dalle solite faccende domestiche che sembrano accanirsi contro di voi, in particolare il settore cucina-bagno, magari funestato da piccole perdite o altri guai del genere. Irritanti, fastidiosi e soprattutto costosi. Per lui, lustratevi gli occhi in autosalone, ma per ora di acquisti impegnativi non se ne parla, finanze e via i motori attualmente in casa vostra non vanno d'accordo. Colore delle emozioni, verde pistacchio. Barometro dell'umore, più vinginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 8, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.